Ora vince il Catanzaro che passa dunque quarti di finale decisivi, calci di rigore, rigori tirati alla perfezione dai calciatori giallorossi nonostante avessimo evidenziato come numericamente la lista era corta, errori gravi quelli commessi da Franco e Tito ma dal dischetto ci può stare alla fine dunque dopo una sfida interminabile passa il Catanzaro per tre volte in vantaggio in questo match.